L'Inter ha vinto un derby elettrico, deciso dall'espulsione di Zlatan Ibrahimovic per doppio giallo dopo un bel gol. Brutta la rissa Ibra-Lukaku per vecchi rancori. Il Milan in dieci ha subito il pareggio di Lukaku sul rigore. I rossoneri hanno poi perso su bella punizione di Eriksen. Barella e Sanchez i migliori nerazzurri. Un derby in cui c'è stato pure l'infortunio dell'arbitro Valeri, sostituito da Kiffi. Il Milan risentirà in campionato di quest'altro KO. L'Inter di Conte, squalificato in campionato, affronterà la vincente di Juve Spaldi stasera. Per Pirlo una rivincita dopo la sconfitta di San Siro, Bianconeri senza Ronaldo, ma con Buffon e tanti giovani. Arbitro pezzuto. Stasera si giocherà pure Atalanta-Lazio. Gasperini con Muriel in attacco. Inzaghi senza immobile. Arbitro Pairetto. Domani Napoli-Spezia, arbitro Furnò. Gattuso rischia la panchina. Ritornerà Mazzarri?